Metti cerottino a papà, qua gli fa male, qua, Aya, qua, vai, ma che bravo amore mio, ma che brava così, bravo amore, bravo amore, grazie, no non mi hai fatto Aya, grazie mille amore, ah tu mi hai dato un bacino, grazie, pugnetto? No bravissimi questi bimbi, Vito e Leo che si prendono cura di Fedez, anche forse perché Chiara non c'è, continua il suo viaggio in India, i bambini sono veramente, non lo so, ogni tanto io penso che Vito sia un po' tepistella, così invece ha dei momenti dolcissimi, assomiglia molto a Leone in questo, si prende cura del papà, va a prendere i cerottoni, li le mette sul ginocchio e poi abbraccia Leone, sono contenta anch'io, Chiara oggi ha detto, eccola qua, sempre in India ha detto che è contenta di avere dei figli che si vogliano bene, io sono contenta per lei perché veramente questi due fratelli si amano, vi faccio vedere questa foto qua, eccoli qua, bene ciao!